Wow 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 Oggi attirare l'attenzione è una delle sfide più grandi che dobbiamo affrontare nella comunicazione Sappiamo che è uno degli elementi che ad esempio i grandi social network stanno considerando tra virgolette come il nuovo oro Perché le persone hanno un'attenzione limitata e quindi chi riesce a conquistarla conquisterà anche poi tutti i tasselli successivi Una delle cose quindi più importanti nel riuscire a tirare l'attenzione è dare sempre un aspetto di novità, di inedito Che faccia contrasto con qualcosa che il nostro cervello abbia già immagazzinato Perché a oggi più noi facciamo vedere una stessa tipologia di contenuto più quel contenuto viene tra virgolette trattato sempre con meno importanza Diventiamo a suoi fatti e quindi non ci dà più nulla come stimolo e quindi l'attenzione chiaramente cala Quindi la domanda è come fare ad attirare l'attenzione oggi Come posso creare qualche cosa di inedito, di contrastante Io ti voglio citare una frase che ho letto dalla biografia di Einstein che mi ha veramente colpito E mi ha lasciato un segno profondo perché è uno di quegli aspetti che un po' ti capopolgono a volte certe prospettive Soprattutto detto da uno come lui La frase è questa L'immaginazione supera la conscienza Questa frase secondo me è fortissima Apre una marea di mondi sul quale si potrebbe discorrere Però calata sul concetto dell'attenzione Qual è quel formato, quella tipologia di contenuto che ti permette di sfruttare al massimo l'immaginazione Esattamente Con l'animazione tu riesci a creare una marea di scenari Una marea di espressività Una marea di situazioni anche super contrastanti Perché utilizza al massimo tutto quello che è l'immaginazione Ed è una cosa che non potrebbe fare nessun altro O comunque tu dovresti farlo per avere dei budget enormi per farlo con un video normale Quindi il vero potere dell'animazione è anche questo Quello della capacità di utilizzare l'animazione con la sua immaginazione Per attirare l'attenzione e costruire dei mondi o delle scene che nessuno ha mai visto Che ti calamita la mente e il cervello per capire cosa sta succedendo Se vuoi sapere come potresti attirare l'attenzione con un video animato Clicca qui sotto e richiede una consulenza gratuita con uno dei nostri consulenti esperti Clicca qui sotto e richiede una consulenza